Il turismo di Salerno e dell'intera provincia dipende dal decollo definitivo dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Se ne è parlato con il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, presente alla BIT di Milano, che si è conclusa ieri nel capoluogo a Meneghino. Imprenditori, addetti ai lavori ed operatori turistici hanno sollecitato l'inquilino di Palazzo Santa Lucia che ha dato ampie garanzie in tal senso. Ne abbiamo parlato con Giancarlo Vitolo, presidente dell'Associazione Destinazione Salerno, che ha anticipato anche un incontro in programma il 21 febbraio prossimo con imprenditori, buyer ed operatori del settore per affrontare proprio il tema turismo a 360 gradi, dalle strutture ricettive all'enogastronomia, dai patrimoni dell'UNESCO, ben due, partendo naturalmente dalle infrastrutture, partendo dall'aeroporto. È un'esigenza ormai alla quale nessuno si può sottrarre, territorio, imprenditori, istituzioni. Ancora oggi dobbiamo, a maggior ragione, essere più forti ed uniti rispetto al passato. Ne abbiamo parlato anche e discusso con il governatore De Luca, che è stato in fiera per due giorni. Anche lui era d'accordo, ormai mancherebbero, usiamo il condizionale, due firme, una del ministro Toninelli e un'altra interministeriale. Quindi invitiamo veramente le istituzioni a fare l'ultimo sforzo per poter, diciamo, non aprire l'aeroporto, perché l'aeroporto è aperto e chi meglio di noi sa che abbiamo operato negli ultimi anni con dei voli charter, però allungare la pista e rifare l'aerostazione in modo tale da poter attrarre, diciamo, ed essere competitivi sul mercato rispetto a compagnie di linea o low cost che possono effettuare anche tratto. Il governatore ci ha sollecitato, diciamo, a farci sentire. Diciamo, noi avevamo già organizzato un incontro per il 21 appesto un po', diciamo, dalla base, tutti gli imprenditori della filiera turistica, ma anche, diciamo, agroalimentare, dell'agricoltura, perché, diciamo, è un'esigenza un po' di tutto quanto il territorio. Pensiamo, diciamo, che una volta, diciamo, partito realmente l'aeroporto con l'allungamento della pista e il rifacimento dell'aerostazione ci sarebbe un indotto, diciamo, di migliaia di posti di lavoro, si potrebbero sviluppare e a maggior ragione attrarre veramente milioni di turisti. Basti pensare che alle ultime fiere internazionali abbiamo incontrato esponenti dei maggiori tour operatori europei, che non aspetta un altro che l'aeroporto possa finalmente decollare per portare veramente centinaia e centinaia di voli charter. Questo è un discorso che vale un poco per la costiera amalfitana, perché diciamo, ha un suo appeal sul mercato, è molto conosciuto, abbiamo incontrato buyer internazionali che ormai vendono da anni la costiera amalfitana, ma ci sarebbe soprattutto uno sviluppo esponenziale su quella che tutta la città di Salerno, ma soprattutto, ripeto, la sud, quindi il Cilento e anche le zone, diciamo, a sud del Cilento, quindi anche la prima parte della Calabria ne beneficerebbe assolutamente. Grazie a tutti.